Adesso vi racconto, in questa regione che non trova i fondi per la sanità e dove le persone devono andarsi a curare fuori, spende circa 87 milioni di euro l'anno per far curare fuori dalla regione gli abruzzesi, cosa fa Marsilio? Marsilio durante la legge di bilancio dice a tutti i consiglieri vi potete selezionare fino a 400 mila euro di contributi da dare ad associazioni varie, non sui progetti, no, con il nome delle associazioni. Questo è quello che succede ed è una cosa che costa circa 17 milioni su base regionale, ora io vorrei capire una cosa, come si fa a votare, a prescindere che uno sia di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto, una persona che ha questo livello di clientelismo, per cui per prendere i voti tu dici io finanzio le associazioni anche se non fanno cose utili, basta che me lo indica un consigliere, così si fa la campagna elettorale, ma è una roba indegna o no? Grazie a tutti.